Oggi 7 gennaio 2018 Montelic ha rimesso su i cè che gli erano stati sequestrati ingiustamente anche se forse in buona fede e io ho lasciato fare per ignoranza ma siccome l'ignorantità è stata colmata ho scritto che io oggi l'ho rimesso su l'albero con i cè cosciente di non aver fatto nessun reato ma di avere contribuito alla storia dell'arte che da sempre aiuta l'uomo a liberarsi dalle catene e questo è il cartello che ho fatto che recita Natale c'è, c'è uguale vita, vita uguale a Dio, Dio è uguale amore, amore uguale verità verità è uguale a libertà e libertà è uguale a legge eterna quindi fino in schiavitù e umanità ma non per tutti, ovvio solo per chi lo vuole io lo voglio e così sarà per Dio e ci metterò tutta l'energia che lui mi dà per difendere questo suo dono perché se non lo facessi sarei veramente una grandissima testa di cazzo e invece sono un creatore di cazzi di mini ecco come promesso ho messo su l'opera d'arte è cresciuta in tutti questi anni affinché io potessi comunicare la mia testimonianza artistica cioè che la schiavitù è una cosa di cui possiamo fare veramente un po' se riusciamo a capire che abbiamo un soldino molto consistente da spendere per lo poterlo e cioè ritirare il nostro silenzio al senso ma questa è una comunicazione che si riferirà man mano che si va avanti da qui a quando l'umanità comincerà ad essere in pace e non persa come succede adesso in cose stupide finché l'ultimo respiro non ci verrà ritirato c'è quasi del muovador comunque sta formando la mia vita comunque qui abbiamo della giuventù bruciata alle nostre spalle che guarda ma non capisce grazie mi fa piacere buon Natale rinascete che siete ancora giovani avete una di mille avanti ok questo è l'inizio del nuovo albero di Natale che non tirerò più giù io che sono venuto finché la pace non sarà diffusa in tutto il mondo mi fa piacere 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 mi fa piacere